allora il rumore del silenzio quindi qui al conservatorio di genova e io sono in compagnia di e caterina che si occuperà proprio della colonna sonora lei è una dj ciao ciao ragazzi ciao a tutti si è una vecchia conoscenza di wall of doors perché da 2016 che faccio il dj per questa manifestazione manifestazione molto importante che tocca a tutti quindi ci mi fa molto piacere senti parlando di musica e di musica dance cioè tu hai collaborato con il mitico denaro quindi raccontami un attimino come è nata questa tipo di questo tipo di collaborazione è nata la vent'anni ha fatto un nuovo disco che si chiama always l'original l'original e quindi lui ha fatto si è messo in gioco di fare una un remix con tanti dj producer il miglior per il miglior la miglior remix quindi sono stati soltanto scelti 14 che il mio pezzo si chiama always night dream remix e catenina e che inventa sulle piattaforme sicuramente adesso anche è uscito anche sul cd e sul vinile ma io soltanto sulle piattaforme sono uscito con questo pezzo qua quindi però sono felicissima ho fatto un bel lavoro già faccio le produzioni per le altre etichette ma tutto diverso il genere musicale con con quale io lavoro bene non perdetela d'occhio cercatela anche sui social perché se c'è da mettere una colonna sonora ad un evento lei è una grande ok ok grazie ciao da radio sanremo